Armani Logistica Armani Logistica nasce il 1 gennaio del 1968 dai fondatori Armani Elio e Armani Renato con attività esclusiva di trasporto merci su strada nel settore lineo. Circa sei anni fa abbiamo realizzato questo stabilimento per la produzione di cipato di prima lavorazione certificato Biomass Plus e PFC. Questo stabilimento è stato realizzato con la necessità di realizzare un prodotto di qualità conforme alle specifiche tecniche della norma Unieniso. Pertanto abbiamo realizzato un prodotto top di gamma che rientra nelle classi A1 e A2, specificatamente per gli alberghi. Per i nostri clienti è molto importante avere un prodotto essiccato, vagliato e le consegne devono avvenire entro le 24, massimo 48 ore. Utilizziamo il baglio stellare Multistar CompTech a tre frazioni in quanto adotta una tecnologia molto vantaggiosa perché in un'unica lavorazione riusciamo a dividere le tre frazioni di materiale. Il baglio Multistar è una macchina ibrida al 100% elettrica e si può utilizzare anche con un generatore in breve tempo e senza sostituire gli elementi di vagliatura. È una macchina mobile, compatta, ma che assicura un'elevata produzione. Ci affidiamo a CGT in quanto partner di fiducia affidabile per la produzione dei nostri prodotti ed abbiamo scelto il baglio Multistar in quanto ibrido al 100% ed utilizziamo le macchine operatrici Caterpillar che rispettano tutte le emissioni in quanto per noi la sostenibilità è molto importante e la tutela dell'ambiente. Il rapporto con CGT nasce più di 20 anni fa e contiamo di collaborare con loro anche per il futuro.